A mio fianco Corrado Spagna, il presidente dell'aeroclub Tifano. Corrado, ti abbiamo visto prima volare con questo bellissimo aereo qui dietro di noi, che tra l'altro era anche protagonista del film La mia Africa, che secondo me conosciamo tutti. Come mai? Questo aereo è in tuo possesso? Sin da bambino, io sono andato in Svizzera, quindi vicino a casa mia avevamo un piccolo aeroporto a Lausanna, e c'era questo aeroplano che era basato lì, e io sin da ragazzino ero sempre lì a guardare questo biplano. Ti sei innamorato? Da subito, da subito. Poi che cosa è successo? Che nel tempo sono venuti in Italia, ci siamo trasferiti, poi una sera guardando internet cercavo un Tiger Mod così, vedo questo Tiger Mod a Lausanna ancora. Sono passati 35 anni, allora ho chiamato subito e ci siamo messi d'accordo e l'ho portato via immediatamente. Molto bello, molto bello, Giusefine si chiama, di che anno è? È del 1943, Giusefine l'ho messo io perché in onore alla mia mamma, che si chiama Giusefine, sì la mia mamma, e quindi abbiamo restaurato un pochino, ma era già messo a posto insomma diciamo. Oggi cosa fai ancora qui a Fano, vai in volo, c'è qualcosa? Sì sì, faremo dei voli, chi vuol venire io lo porto, poi porterò anche a te. Infatti io ho già chiesto, dopo andiamo. E quindi di piccoli voli, senza fare acrobazia, niente, tranquilli. Una dimostrazione. Tipo la mia Africa, ma senza l'Africa purtroppo. Sì, senza Africa. Beh, anche l'Italia è molto bella, no? Insomma, diciamocelo, ecco. Va bene, grazie Corrado. Prego, prego. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.